Lo dicono sottovoce residenti del quartiere e cittadini e a rischio la nostra stessa sicurezza perché è vero che il furto delle auto è un fenomeno definito strutturale che appare ormai fuori controllo ma qui ne va dell'incolumità della gente di fronte a ladri impuniti disposti a tutto pur di mettere a segno il colpo. Siamo a Biceglie nel parcheggio dove è avvenuto l'ultimo episodio diventato virale dopo la diffusione del video di una telecamera di sorveglianza che è mortale il momento in cui due persone entrano in una vettura e la portano via in pieno giorno. Tutto in una manciata di secondi davanti al proprietario che esce dalla farmacia e cerca di intervenire ma viene invitato per così dire a non avvicinarsi. La macchina poi svanisce nel nulla davanti agli occhi di tre persone letteralmente incredule. Le statistiche sono impietose la provincia di Barletta Andrea Trani al primo posto in Italia per numero di furti di auto appena lo scorso anno oltre 2600 una media di 7 al giorno i mezzi vengono ritrovati bruciati nelle campagne non prima di essere stati cannibalizzati smontati pezzo pezzo cioè alimentando così il mercato nero dei ricambi.